Il killer è sceso dall'auto e ha sparato una decina di colpi da una calibro 9. Affreddato Angelo Carità, sessantenne, licatese, che era all'interno della sua vecchia Fiat 1 di color verde, con due colpi al volto e uno alla spalla. L'assassino è stato ripreso da una telecamera, un video in cui l'uomo scende da un'automobile con in mano una pistola. Si vede chiaramente, anche se di spalle. Gli inquirenti stanno per chiudere il cerchio. Il sicario sapeva che Carità avrebbe lasciato il suo appezzamento di terreno vicino a una traversa di Via Palma a Licata per trascorrere con i familiari la festività della Pasquetta. A ritrovare il corpo senza vita di Angelo Carità è stata la moglie, che è andata a cercarla ora di pranzo. La donna si è sentita male e per lei è stato necessario far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Lo shock è stato forte. Angelo Carità era stato condannato per l'omicidio del compaesano Giovanni Brunetto alla fine del febbraio 2017 all'ergastolo con isolamento diurno per un anno, ma a sua istanza dei difensori, gli avvocati Gazziano, era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Ed è proprio su questo movente la vendetta che stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Licata e del reparto operativo di Agrigento. Giovanni Brunetto, 56 anni, trovato sotterrato in un appezzamento di terreno a Canicattì il 29 ottobre 2013, ma assassinato 5 mesi prima il 7 maggio 2013, quando scomparve nel nulla. Per questo delitto, Angelo Carità era stato già arrestato insieme ad un complice condannato, come detto in primo grado. Nell'emore del processo d'appello è stato scarcerato. Secondo l'inchiesta condotta dalla procura di Agrigento, riferentesi proprio all'omicidio Brunetto, Carità cagionava dopo averlo sequestrato la morte di Giovanni Brunetto, sopprimendone il cadavere, con l'aggravanti di avere commesso il fatto con premeditazione per motivi abbietti e futili costituiti dalla volontà di Angelo Carità di non restituire a Giovanni Brunetto una somma di denaro variabile dai 40.100.000 euro ricevuta in prestito in precedenza.